un leprotto molto carino gioca a nascondino un posticino deve trovare prima che la mamma lo venga a cercare ci sarebbe lo stagno ma non ha voglia di farsi il bagno il topino gli offre la sua casetta ma per lui è troppo stretta nascondersi con la lumaca sarebbe divertente ma nel suo guscio non c'è posto per niente il leprotto tutto il tempo ha sprecato e la mamma lo ha subito trovato fine